Un Natale 2012 magro è quello che emerge a meno di una settimana dalla festività più attesa e sentita dell'anno. Tradizione, casa, risparmio sono le caratteristiche principali di chi ha già programmato le prossime vacanze di Natale in famiglia. Cercando di fare anche del bene se possibile, considerato che in questi periodi dove la crisi è veramente elevata, c'è la necessità soprattutto per chi può di aiutare chi ha bisogno. L'importante è riunirsi con i figli, questi valori universali, tradizionali, questo è il Natale che conta per me. Ci stiamo preparando tradizionalmente, facendo l'albero, presepe, anche perché sono piuttosto tradizionalista, faccio tutte e due le cose. Quindi un Natale in casa, in famiglia? Ah sì, senz'altro, anche perché con l'austerity sarebbe inopportuno uscire e fare quelle cose che si facevano agli addietro. Natale all'insegna delle ristrettezze? Delle ristrettezze sì, purtroppo sì, non possiamo fare diversamente. Abbiamo già speso tutto per le tasse. Qualcuno ha già pensato ai primi regali, stringendo la cinghia e accontentando almeno i bambini. Senza tanti sprechi, perché i tempi non lo permettono, però per gli affetti, soprattutto per i nipotini, ci vuole sempre una cosa utile, un ricordino. È che il Natale sia buono per tutti. Prima si facciano dei regalini un po' più consistenti, adesso si va proprio sul minimo, proprio per non rompere la tradizione del Natale. Però la crisi si sente molto. Ha già comprato i regali per i parenti? Ecco, questo no, anche perché poi in ultimo sembra che si faccia qualche affaruccio, quindi è meglio aspettare un attivino. Strade e negozi vuoti e la speranza che il prossimo anno possa essere migliore. Un Natale tutto da vivere in compagnia delle persone care, insomma, a dispetto della tanto temuta profezia maya. Tranquillo, tranquillamente. Sono una docente di scienze e quindi non posso credere a queste cose. È abbastanza ridicolo pensare che il mondo finisce perché i maya l'hanno previsto qualche anno fa. Non credo assolutamente che possa succedere qualche cosa, anche perché i maya, sì, indubbiamente è un popolo famoso e tutto quanto, però è meglio che campiamo un po' di più di quanto dicono loro, è vero? Anche perché loro ormai defunti si facessero gli affari loro.